Una nuova perturbazione si è verificata ieri sera nel nostro territorio. Intorno alle 22.30 di mercoledì 23 ottobre un violento nubifragio ha colpito le zone costiere, tra queste oltre Fano anche Marotta nel comune di Mondolfo. In quest'ultima ad essere interessata dagli allagamenti è stata la parte a nord, subito attivato dall'amministrazione comunale insieme alla protezione civile Fadi Bruno il centro operativo comunale. Allagate alcune vie del territorio che sono le vie che solitamente soffrono maggiormente con gli allagamenti. Come amministrazione comunale abbiamo monitorato tutta la notte costantemente il territorio insieme ai volontari della protezione civile che ringrazio perché sono stati tutta la notte a monitorare il nostro territorio, tutte le vie, si è allagato nuovamente il sottopasso delle rane dove questa mattina stiamo intervenendo appunto per ripristinare la viabilità. Gli operai del comune sono al momento su una via vicino a via del Buzzo a Mondolfo perché c'era una famiglia che era rimasta isolata e quindi stanno ripristinando appunto una strada di campagna e continueremo a monitorare anche nelle prossime ore la situazione. Come mai, Sindaco, si verificano queste situazioni nella zona nord di Marotta durante le forti piogge? La causa soprattutto sono gli errori del passato, urbanizzazioni che sono state portate avanti nel tempo senza prevedere adeguati canali di raccolta delle acque meteoriche poi sicuramente la terza corsia ha peggiorato le condizioni perché quando è stata realizzata quella volta il comune di Fano che aveva in carico questo territorio non ha previsto delle opere compensative adeguate sia sulla zona sud di Fano che sul quartiere di Marotta Nord e quindi paghiamo adesso queste conseguenze. Anche attraverso i social si è parlato degli scarichi a mare, qual è la situazione? Sia prima degli allagamenti di settembre che prima degli allagamenti appunto degli ultimi giorni gli scarichi a mare erano tutti aperti sia quelli di Marotta Sud e Marotta Cento di cui la competenza è del comune di Mondolfo e anche quelli di Marotta Nord di cui la competenza è di Aset. Abbiamo visto alcune segnalazioni per quanto riguarda il canale invece di Via Chienti che risultava ostruito ma ha preciso che quella è l'opera che stiamo realizzando che ancora non è funzionale, non è collegata a Monte, con le vie a Monte quindi non è causa di allagamenti delle vie del quartiere di Marotta Nord a Monte della Statale. Inoltre il sindaco ha precisato che quella di Mondolfo è l'unica amministrazione che sta mettendo mano al problema degli allagamenti nella parte a nord. Abbiamo messo in campo un'opera di oltre 3 milioni di euro che è in fase di realizzazione, il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche su Via Corfu e Via Chienti. I lavori sono in corso, nel mese di novembre proseguiranno con il canale in Via Ferrari e in Via Betti e poi a primavera del prossimo anno realizzeremo l'attraversamento ferroviario sotto la ferrovia ma anche sotto la Statale. Ora per il bilancio di previsione 2025 stiamo progettando una vasca di laminazione a fianco al campo sportivo di Via Martini che servirà per raccogliere le acque che vengono dall'autostrada sul fosso di Via Illica per permettere di ridurre il rischio allagamenti anche nella zona di Via Dalmazia, Via Illica, Via Rovani, Via Rizzo e le vie nella zona di quel quartiere.